Per le ricorrenze dei Santi e dei Morti il 1 e 2 novembre, i cimiteri cittadini si riempiono di persone e vengono curati con una manutenzione ad hoc. Ma il Comune dell'Aquila, con l'assessore all'ambiente Fabrizio Taranta, ha iniziato ormai cinque anni fa un percorso virtuoso di interventi. Certo, nel cimitero monumentale c'è ancora la questione dell'ala chiusa a causa del sisma, ma che attiene alle opere pubbliche. Ad ogni modo si sono fatti interventi, altri ne sono in programma. Questo per rendere più decorosi i luoghi dove riposano i propri cari. La lista delle cose fatte da fare è lunga e coinvolge ovviamente anche tutti i cimiteri delle frazioni. Da quando abbiamo iniziato questo nuovo mandato, ma a dire il vero anche il mandato precedente, molta attenzione è stata riservata ai nostri cimiteri. Ricordo il Comune dell'Aquila, ne ha 20-19 oltre a quello monumentale, un lavoro importante che stiamo portando avanti anche quest'anno. Siamo vicini nell'ordine dei 2 milioni circa di euro per le manutenzioni ordinarie e straordinarie che sono interventi in corso e interventi realizzati. In questo momento, ad esempio, stiamo realizzando nuovi loculari a Paganica e Roio, tra poco saranno completati. Stiamo anche sistemando le coperture di alcuni loculari dove c'erano infiltrazioni nei cimiteri di Preturo, sempre di Roio. Interventi sono stati fatti anche nelle altre frazioni. Un piano importante di manutenzione che stiamo portando avanti con grande efficacia. L'attenzione di questa amministrazione ovviamente è rivolta anche al cimitero monumentale dell'Aquila, molto importante per tutti i cittadini. Anche lì ci sono degli interventi in corso. Abbiamo ripristinato le coperture dell'edificio 2005 per un importo di 300 mila euro, 400 mila euro per l'edificio del 1996. Insomma, un lavoro importante. Ovviamente, nel completamento della cinta muraria, abbiamo in programma la sistemazione dei vialetti interni. Insomma, un lavoro importante, quotidiano, che ci vede impegnati sia nella manutenzione ordinaria che in quella straordinaria. L'elemento in più, stiamo cercando di rivedere, presto porteremo anche all'attenzione del Consiglio, il regolamento legato alla polizia mortuale, per venire incontro a quelle che sono le esigenze che in questi anni i cittadini ci hanno manifestato e che non trovavano riscontro nel regolamento. Quindi cercheremo di aggiornarlo e dare ancora più attenzione a quelle che sono le richieste che ci vengono dai cittadini.